sono un po come booking dei commerciali quindi nascono come editori che creano spazi prendono visibilità e poi ti vendono questo spazio quindi se devi parlarci ti suggeriranno i pacchetti più più cari perché i commerciali fanno questo vendono cercano di vendere più possibile quindi attenzione anche con loro si può chiedere ai vecchi clienti provenienti da airbnb o da altri siti di lasciare delle recensioni lo fanno in pochi perché si hanno lasciato la recensione l'ha già fatto perché devono farlo di nuovo a meno che non siano particolarmente contenti i pagamenti sono un po un problema nel senso che fanno gestire a una dita esterna che si chiama i appstone in inghilterra che è molto poco flessibile che è molto poco integrata con home away spesso se tu parli con gli appstone non hanno neanche accesso al tuo account in home away per cui non vedono quello che vedi tu e insomma si fa un po fatica a fare delle modifiche è da tenere d'occhio home away perché nonostante sia in fase calante sono stati acquisiti per quasi 4 miliardi da expedia expedia è un colosso ora si si può supporre che expedia prenderà tutti o ha già preso in parte non si capisce bene tutti i listini di home away li venderà nel suo portale quindi con una visibilità molto molto alta penso che valga la pena perché qualche pronostazione bene o male tende ad arrivare poi chissà che un giorno quando l'integrazione con expedia è completa non diventi un player importante e quindi essere già dentro con delle recensioni può essere positivo provate caricatelo mettetelo online chiedete qualche recensione ai vostri clienti più contenti non andate a chiedere clienti scontenti ovviamente prendetene due o tre e poi aspettate ciao